Cuba festeggia il 48esimo anniversario del fallito attacco alla Moncada, nel quinto anno dall'arrivo al potere di Raul Castro. Una occasione per fare il punto sulle riforme approvate nello scorso aprile e che aprono alla proprietà privata la libera impresa. Riforme attese nell'isola ma destinate a venire implementate gradualmente, come ha detto il vicepresidente José Ramón Machado. Parliamo sinceramente al popolo, ha detto. Tutti i cambiamenti arriveranno, senza fretta ma anche senza interruzione. Tra le innovazioni previste è anche il diritto per i cubani di acquistare la casa, un modo per togliere interi quartieri dall'abbandono e fare emergere alla legalità un mercato clandestino, ma nella pratica poco è cambiato. Avrei soldi per comprare ma non ci sono ancora riuscito perché le cose restano poco trasparenti, dice un idraulico di 67 anni. Ancora oggi si fa come una volta, le vendite sono camuffate da permute. In base ai piani del governo cubano almeno 500.000 alloggi saranno immessi sul mercato legale privato. Dalla 1962 sull'isola grava un embargo commerciale proclamato dagli Stati Uniti.